Only you, only you, only you... Ti tengo d'occhio. Mi muovo. Tanto tempo fa rubavo le barrette di cioccolato all'orna. Ora mi sento un po' in colpa. Come gli scogliattoli? Pensano che accumulare roba li salverà? Idioti. L'hai detto, Grace. Ok. Mi sa che sono nel posto giusto. Gli Edeniti non sanno che siamo qui. Sarò rapida in dolore. Vado. Che gran colpo. Muoviamoci. Muoviamoci. Lo ho! Muoviamoci. Ci vedete per l'anno scorso! L'ha scelato proprio con me! Beh, mi rinvoca... Dove vuoi? Vado di qua! Problemi più avanti! Ok, vado! Problemi di armi! Coprimi! Ok! Mi sposto! Cerco una visuale migliore! Cambio posizione! Versaglio! Ok, team! Non vedo nessuno! Facciamogliela vedere! Non facciamo gli schizzi! Non mi sentivo così dall'Afghanistan... Fai attenzione se becchiamo un posto di blocco! Abbiamo fatto bene a consegnare questo posto alla resistenza! Cos'è stato? Ma che... Questo gioco è...